Il Maltempo Il Maltempo soffia lo scirocco, mare mosso e dagli scafi fermi, cattive condizioni meteomarine e disagi per i trasporti marittimi. Agli scafi quasi tutti fermi da stamattina, tanti gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento. L'isola Dischia scende in piazza, contro l'Italia la sanità, circa mille i partecipanti al corteo di protesta. Monsignor Lagnese in prima fila, non potevamo mancare, massiccia la presenza degli studenti. Il termalismo e la convennistica per arricchire l'offerta turistica. Il convegno organizzato dall'AREC Campania si discute della legge regionale numero 18 del 2014 che supera la vecchia organizzazione territoriale del turismo. L'intervista è Luigi Bosco, vicepresidente della terza commissione consigliare della regione. Porto di Forio, il molo borbonico è ancora off-limits per i pescatori. Nonostante le rassicurazioni, siamo costretti ad ormeggiare i nostri pescherecci tra le barche da di porto, con il nostro grande disagio e la protesta del pescatore foriano Nello Morgera. Lo sport, eccellenza, Real Forio in casa, Procida e Barano in trasferta. Al Salvatore Calise di Forio arriva il San Giorgio. Misteri in pagliazzo faremo la nostra partita. Domenica in campo, Barano, Isola di Procida e Nova Ische. Dopo il Tg, la trasmissione sportiva a bordo campo, l'anteprima. Benvenuti al consueto appuntamento con informazione di Tele Ischia. Dunque, cattive condizioni meteomarine e grandi disagi per i trasporti marittimi. Il mare molto mosso, che ha caratterizzato la giornata di oggi nel Golfo di Napoli, ha lasciato a terra numerosi pendolari e studenti di Ischia e Procida. Gli ariscafi fatti già da questa mattina hanno sospeso quasi tutte le corse, sia da Napoli verso Ischia e Procida che viceversa. E le previsioni del tempo per domani riportano in mattinata ancora forte vento di scirocco, mare mosso e temporali. Mentre i venti dovrebbero girare verso i quadranti settentrionali a partire dal pomeriggio, con una riduzione del moto ondoso. E il vento che sta soffiando impetuoso da ieri sera ha creato qualche disagio sull'isola di Ischia. In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti all'acqua a meno presso l'istituto scolastico di Via Pannella per un'antenna TV pericolante. Intervento anche in Via Rosario, sempre all'acqua a meno, per un albero molto alto che il vento ha quasi sradicato. Infine i vigili sono intervenuti a Forio, in Via Provinciale Panza, sempre per un albero pericolante. Tutte le situazioni sono state risolte senza particolari problemi. È partito da Via Michele Mazzella a Ischia il corteo di protesta stamani contro i tagli alla sanità. Circa mille i partecipanti, fortissima la rappresentanza degli studenti. In prima linea il vescovo della diocesi di Ischia, Monsignor Lagnese. Non potevamo mancare, ha sottolineato il vescovo, tante le associazioni che hanno aderito ed erano presenti con striscioni e cartelli. Presente anche una delegazione di procidani e i sindacalisti dei marittimi dell'Ursa di Torre del Greco. Assenti i politici, come nella precedente manifestazione del 28 luglio, ci si aspettava una partecipazione anche di sindaci e consiglieri comunali. Come sempre sono stati gli studenti a rinfoltire le schede del corteo, partecipando attivamente con striscioni e bandiere. I ragazzi dell'Istituto Nautico hanno sfilato in divisa. Il corteo ha poi proseguito per le strade del centro cittadino, Corso Vittoria Colonna e Via Roma, per sfociare su Piazza Anticareggia e proseguire lungo via Iasolino. Vediamo i servizi. La manifestazione per il diritto alla salute vede in campo tante forze. Avvocato Gino Di Meglio, manifestare per il diritto alla salute? Protestare per il diritto alla salute credo che sia fondamentale, così come protestare per tutti i servizi essenziali che dall'isola vogliono scipparci e portare via. La salute è un bene primario che è naturalmente costituzionalmente garantito e purtroppo il piano sanitario regionale e il piano attuativo del dottor Damore del piano sanitario regionale penalizza fortemente la sanità isolana, penalizza fortemente l'ospedale, ridimensiona dei servizi che noi riteniamo essenziali e salvavitia. Avevamo fatto un incontro con il dottor Damore il 12 settembre a Monte Riuscello come comitato e eravamo andati con spirito collaborativo e propositivo, però evidentemente siamo stati presi in giro, così come è stata presa in giro l'intera cittadinanza, perché alla fine le promesse a tutt'oggi non sono state mantenute. Abbiamo perso e perderemo dei servizi essenziali, di qui la necessità di scendere in piazza per fare sentire la voce della cittadinanza, la voce della collettività in assenza della voce della politica e del pubblico amministratore. Eccellenza, anche in questa occasione la chiesa presente in piazza per il diritto alla salute? Sì, non poteva non essere così, perché dove c'è una battaglia sacrosanta come questa che riguarda il diritto alla salute la chiesa non può non scendere in campo. D'altronde questo è un diritto che va salvaguardato anche in rispetto a tutte le persone che non hanno le possibilità per curarsi, per andare fuori sulla terraferma. È un diritto fondamentale, dice la Costituzione. Già è stata affossata, potremmo dire, la salute mentale qui sull'isola e adesso due comparti fondamentali, l'UTIC e l'oncologia, sono a rischio. Noi non possiamo permettere tutto questo, dobbiamo lottare insieme. Il comitato per la seconda volta in piazza per poter manifestare il diritto alla salute? Sì, oggi ci siamo sostituiti alle amministrazioni, cosa che non hanno fatto fino ad oggi, non hanno mosso un dito. Quindi comunque andrete avanti? Certo, stiamo difendendo un diritto sancito dalla Costituzione. Il diritto alla salute? Il diritto alla salute è fondamentale. Su un'isola come quella di Ischia, proprio per la sua specificità e per le difficoltà che si hanno, a differenza di altri posti a spostarsi sul continente, i tagli lineari non funzionano. Apertura dei lavori oggi all'hotel Mare Blu di Ischia per il convegno organizzato dall'associazione ex consiglieri regionali della Campania sul tema il termalismo e la convenistica, importanti strumenti di arricchimento dell'offerta turistica, capaci di allungare l'arco di utilizzazione delle strutture ricettive e di accrescere l'impiego di lavoro specializzato nel settore. Ascoltiamo l'intervista con Luigi Bosco che è vicepresidente della terza commissione consigliare della Regione. Luigi Bosco ha il convegno sul termalismo e la convenistica. Parliamone brevemente per i telespettatori di Tele Ischia. Salve, buonasera. Quello di oggi è un incontro importante anche perché fatto ad Ischia non si può che parlare di turismo. Si parla di turismo nell'ottica di un'attesa attuazione della legge 18-2014, una legge che noi come gruppo consigliare Campania Libre ma anche assieme al Presidente Marrazzo stiamo fortemente spingendo in avanti. Assieme al Corrado Matera e al Sessore del Turismo credo che nei prossimi mesi potremo finalmente avere questi ambiti territoriali omogenei turistici che potranno dare il via a questa serie di nuove iniziative sul territorio. Assieme ai comuni che avranno un ruolo principale e fondamentale nello sviluppo di questa legge regionale si potranno creare i punti turistici locali che sono delle vere e proprie piattaforme di attrattività turistica e di informazione al turista. Per quanto riguarda i SIAT ossia i sistemi di informazione di attrattività turistica è il caso di già da ora immaginare come poterli creare interiori vasti di area vasta come Caserta posso immaginare la regge di Caserta già da sé è un sito che potrebbe essere un polo turistico locale. Per quanto riguarda invece il discorso delle attrattività il ruolo che gioceranno i privati in questa vicenda in questa attuazione della legge 18 di un attore sarà importantissimo perché i privati potranno di concerto con gli enti locali e quindi soggetti pubblici ma anche con le gambe di commercio dare il via ad una rete di programmazione annuale di tutta una serie di attività che il turista potrà vedere e beneficiarne. Domenica prossima la seconda edizione di Ischia Dream Run la gara podistica che vedrà atleti provenienti da tutta Italia a correre sull'intero perimetro della nostra isola. il dottor Alberto Mannelli dirigente del locale commissariato di polizia ci spiega le disposizioni per la salvaguardia dell'ordine pubblico. Sentiamo il servizio. Dottore ci sarà Ischia Dream Run giunta alla seconda edizione lei è responsabile ecco della forza pubblica le chiediamo di fare un appello e di spiegarci come funzionerà il traffico durante queste tre ore della gara. Sì come dirigente del commissariato di polizia io sono il responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza e dell'incolumità di ogni cittadino. Quindi noi abbiamo fatto stamattina una riunione tecnica dove praticamente abbiamo valutato tutta la forza che possiamo mettere in campo per questo evento che porterà sicuramente l'ustro all'isola di Ischia abbiamo avuto l'ok dalla regione Campania verrà fatta un'ordinanza dal prefetto che dobbiamo rispettare tutti e tutto partirà alle nove del mattino come è stato accennato in serie di conferenza stampa ci sarà una macchina di inizio corsa e una macchina di fine corsa quindi una volta che transiterà la macchina di fine corsa da quel momento in poi la circolazione la viabilità potrà essere ripristinata in quanto è un solo giro la cosa che volevo dire importante è che dura mezz'ora questa interdizione questo stoppo per la circolazione quindi massima attenzione che facciamo e che diciamo come appello a tutti i cittadini di non immettersi durante il percorso tra la macchina di inizio corsa e da macchina fino a corsa perché si va contro un'ordinanza del prefetto e contro le norme del codice della strada siccome è una festa non vorremmo procedere assolutamente a verbalizzare qualche utente ignaro di tutto questo magari la cosa importante è che noi garantiremo le emergenze quindi qualsiasi emergenza quindi 112 113 qualsiasi chiamata su intervento saremo noi primi io in prima persona a scortare la pattuglia che andrà sul posto e per quanto riguarda le emergenze naturalmente di pronto soccorso ambulanze e quant'altro anche questo è tutto garantito dalle forze dell'ordine saremo tutti presenti Dottore ci sarà veramente un impiego importante di uomini forze dell'ordine ma anche tanti volontari e dicevamo prima lei chiederà anche un supporto dalla terraferma chiederemo un supporto al questore di Napoli chiederemo 20-30 uomini del reparto mobile che vengono utilizzati proprio per questi grossi eventi come quelli calcistici dove bloccheremo i porti in entrata sia quello di Ischia che quello di Casamicella per coloro invece che devono partire che hanno il traghetto quindi tutto durerà questa mezz'ora di spacco quindi la mia raccomandazione è quella di anticiparsi assolutamente perché altrimenti non ci sono alternative in occasione della gara podistica il comandante della polizia locale di Forio Giovanni Giuseppe Iacona ha emesso un'apposita ordinanza che regolamenta il traffico dalle 8 di sabato fino alle 18 di domenica è vietato il transito e la sosta al soccorso inoltre dalle 9 alle 13 di domenica è vietato il transito lungo tutte le strade tra Forio e Panza interessate dal passaggio degli atleti fino al transito del veicolo di fine corsa e l'EAV informa che a seguito delle ordinanze dei comandanti della polizia locale dei comuni dell'isola d'Ischia emesse per lo svolgimento dell'Ischia Dream Run domenica dalle 8 e fino al termine della gara il servizio subirà delle modifiche o limitazioni che interesseranno tutte le linee al termine della gara il servizio riprenderà normalmente Porto di Forio molo borbonico ancora off limits per i pescatori sembrava che tutto fosse risolto invece siamo ancora costretti ad ormeggiare la nostra barca nello spazio esterno accanto ai natanti dati porto lo afferma il pescatore Aniello Morgera non credo che per collaudare due luci ci sia bisogno di così tanto tempo sentiamo Porto di Forio pescatori ancora all'esterno del porto e del molo borbonico nemmeno l'ombra nello Morgera Allora da 28 giorni che dovevano fare questi lavori siamo arrivati a un anno la sera quando rientriamo da mare per ormeggiare la barca dobbiamo a un altro trono non troviamo l'ormeggio dobbiamo chiamare Marina di Reggio Verdi abbiamo due urti nella barca non si sa chi me le ha date perché siamo ormeggiati in mezzo alle barche da diporto e la legge non dice che una barca da pesca deve essere ormeggiata nell'area da diporto dove siamo ormeggiati si deve liberare dalle barche da diporto perché la nostra assicurazione non paga le barche da diporto la barca da pesca non può essere ormeggiata nelle aree dei portisti deve essere nell'area da pesca il mola borbonico la sera lo accendono e non si salgono scendono però non si sta facendo niente per diciamo per farci ormeggiare eppure vi avevano assicurato che a breve sareste tornati qui si dicono solo a breve torniamo ma a breve quando noi non possiamo lavorare perché noi ci devono venire a prendere e scendere perché il pescatore mette una rete ne leva un'altra e per noi è un problema ma loro dicono ci vuole il collaudo ma collaudo di che cosa lo ritorno a dire noi non abbiamo fatto non è stata fatta un'opera strutturale collaudo degli fili di corrente ci vogliono 10 minuti la ditta lo deve fare il collaudo non ci vuole un paio di mesi o 5 mesi questo il collaudo si deve fare solo il collaudo dell'impianto elettrico e dei servizi indigenti che collaudo si deve fare della pavimentazione e allora se si deve fare il collaudo gli direi agli organi competenti allora anche il porto di Forio deve essere collaudato come funziona la legge in Italia in due maniere qua ci vuole il collaudo e per il braccio del porto non ci vuole il collaudo lo sport il calcio eccellenza domani si ritorna nuovamente in campo nel campionato di eccellenza dopo il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra le isolane partita casalinga per il Rea Forio che Alcalise affronta il San Giorgio trasferte per Barano e Prosida vediamo si ritorna nuovamente in campo nel campionato di eccellenza dopo il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia eccellenza e promozione tra le isolane solo il Rea Forio ha potuto festeggiare il passaggio del turno ma è già acqua passata perché domani pomeriggio alle 15.30 in Biancoverdi saranno ancora di scena al Salvatore Calise l'avversario della sesta giornata sarà il San Giorgio con pagine che rientra sicuramente tra le big del Girone A i Granata hanno comunque appena un punto in più ai ragazzi di Mister Impagliazzo il quale però dovrà fare di necessità virtù visti i numerosi infortunati non ci saranno sicuramente di Spigna e Arcamone mentre sono da valutare le condizioni dei fratelli Saurino di Fanelli e Giacono ci sarà invece il capitano Chiaiese che mercoledì ha già cominciato a mettere minuti nelle gambe per il Real Forio si tratta del primo vero banco di prova dopo un inizio di stagione che ha visto i foriani impegnati prevalentemente con compagini di medio-bassa classifica e mentre il Forio scenderà in campo domani Isola di Procida e Barano rientrano nel programma delle gare di domenica la squadra allenata da Mister Cibelli andrà in trasferta in quel di Torre annunziata per affrontare in un vero e proprio big match l'Oplonti Savoia i biancorossi hanno ancora il dente avvelenato dopo l'eliminazione in Coppa Italia arrivata in casa del Portici per un gol subito abbondantemente a tempo scaduto nella giornata di ieri infatti si è fatta sentire anche la società procidana nella persona del presidente romano che ha chiesto il rispetto per il suo club per dimenticare la rapina a mano armata di mercoledì Dodò e compagni vogliono fare risultato allo stadio Girò non sarà facile nella bolge di Torre del Greco anche perché il Savoia insieme alla Fragolese è prima a punteggio pieno nel girone A Cibelli dovrà fare a meno dello squalificato Agata ma dopo la vittoria strappata la scorsa settimana in campionato proprio al Portici il Procida crede nel bis dall'isola di Graziella partirà un numero consistente di tifosi che seguirà la squadra in trasferta chiaro segno che sull'isola accanto ci credono e come per quanto riguarda il Barano i bianconeri hanno salutato la Coppa Italia dopo l'1-0 subito in casa del Volla nessun dramma la priorità resta la salvezza in campionato e soprattutto ottenere i primi punti in trasferta lontano dall'isola gli Aguilotti quest'anno non hanno mai vinto Procida e Afragolese affrontate nella prima e nella terza giornata viaggiano su un altro binario domenica mattina invece i ragazzi di Billonemonti saranno ospitati dal Real Albanova a Casal di Principe si tratta sicuramente di un avversario alla portata per un Barano che comunque non potrà contare su tutti gli effettivi fatto sta che lontano dalle mura amiche non si può steccare non si vive solo di vittoria in casa domandi quindi al Calise di Forio arriva il San Giorgio mister Impagliazzo non ha dubbi nonostante gli infortunati cercheremo di fare la nostra partita sentiamo il mister siamo con mister Impagliazzo mister Real Forio che sarà impegnato nel prossimo turno qui allo stadio Calise si affronterà una squadra importante qual è il San Giorgio come arriva il Forio a questo appuntamento? diciamo che abbiamo recuperato qualche elemento vedi abbiamo perso qualcuno vedi di Spigna vedi lo stesso Leonil abbandonato che l'altro giorno alla prima partita si è infortunata seriamente ne dovrà avere per più di qualche mese giochiamo contro una squadra una squadra come tu giustamente detto è una squadra che ho visto due tre filmati a Televomero è una squadra che pratica un buon calcio è una squadra da prendere con le molle è una squadra dove dobbiamo prestare la massima attenzione senza snaturarci perché noi dobbiamo fare la nostra partita non lasciarci la testa per quella che possa essere la bravura dell'avversario se giochiamo da squadra se ci mentalizziamo che possiamo comunque ottenere qualcosa di importante poi sarà il campo a decidere a dire se dovevamo ottenerlo o lo meritavamo di ottenere però se ci mentalizziamo bene possiamo fare la nostra buona figura contro tutte mister tu stesso mi dicessi che il calendario vi ha aiutato perché nella parte iniziale avete preso più di qualche squadra abbordabile pensi che ora inizia un campionato di livello totalmente diverso perché affronterete squadre importanti e se quella con il San Giorgio può essere una prima prova di maturità per il tuo Real Forio per capire dove collocarsi ma io non lo so dove il Real Forio andrà a collocarsi sicuramente abbiamo avuto due partite due o tre partite vedi Neapolis Pimonte che poi Pimonte sarà comunque una buona squadra e quella di domenica Marignanese che erano forse sulla carta inferiore alla nostra però le prime due con Sessana che è la migliore coppia di attaccanti della categoria secondo me Fra Gioio Palumbo e Casalnuo due banchi di prova molto 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 importanti la stessa Albanova l'abbiamo trovata in un momento particolare nella Coppa Italia comunque è stato un avversario importante il Forio ha fatto la sua la sua buona figura dispiace che abbiamo lasciato ripeto qualche punto per strada vedi Sessana e vedi Marignanese perché questi sono punti che abbiamo lasciato per strada la prima partita per negligenza nostra domenica scorsa invece per una serie di circostanze per il fattore campo la pioggia che è imperversata per buona parte della gara non ha permesso di giocarci la partita in un determinato modo e abbiamo qualche punto in meno in classifica però devo dire che in un modo o in un altro penso che il Forio stia rispettando pienamente quelle che erano poi le aspettative della dirigenza della tifoseria o di chi per esso ultimissima domanda si giocherà di sabato è la prima volta quest'anno pensi che possa essere un fattore importante anche per avere un po' più di pubblico invece lo reputi indifferente domani figurarsi con un incontro tra Napoli e Roma alle tre allo stesso orario figurarsi quanto pubblico ci possa essere anche perché poi nelle partite di mattina è vero che l'ultima partita era piovuto comunque la squadra veniva da due vittorie consecutive non è che al campo ci fossero tante persone giocare nel pomeriggio è stato obbligatorio perché domenica Ischia sarà paralizzata per la corsa e casomai facevamo nemmeno a tempo noi che conosciamo il territorio a venire a giocare in determinato orario in promozione domenica pomeriggio alle 15.30 torna in campo la nuova Ischia si gioca a Brusciano dove la squadra di casa è ancora alla ricerca del primo punto in campionato sentiamo il cammino della nuova Ischia in Coppa Italia si è fermato davanti alla netta supremazia della Fragolese capolista punteggio pieno nel campionato di eccellenza considerato il passaggio al secondo turno dopo aver battuto il Neapolis con pagine che milita nel massimo campionato regionale si può tranquillamente dire che i gialloblusi hanno andati ben oltre le aspettative iniziali e se in Coppa non si poteva fare di più in campionato invece il meglio deve ancora venire la nuova Ischia è capolista in solitaria nel girone B con 5 vittorie ottenute nelle prime 5 partite tra le avversarie battute c'è anche un certo Bacoli Sibilla formazione attualmente posizionata al secondo posto in classifica a meno 3 dagli schitani ancora più dietro a meno 4 l'Afro Napoli United altra contendente al titolo finale oltre allo Stasia che è scivolato addirittura a meno 7 dalla vetta occhio però a Monte di Procida Ottaviano e Rione Terra che pure daranno fastidio alle favorite ma l'impressione è che la squadra allenata da mister Di Meglio salvo clamorosi colpi di scena possa vincere a mani basse questo campionato vista la rosa disposizione attenzione però al momento delicato che sta attraversando soprattutto il reparto avanzato orfano dello squalificato Nassim Mendille per il momento il direttore sportivo Gianni Di Meglio non sembra intenzionato a rimpiazzare l'attaccante francese il cui ruolo viene ricoperto provvisoniamente da Arcobelli l'assenza del proprio centravanti non preoccupa più di tanto gli isolani che calendario alla mano nelle prossime tre giornate non saranno chiamati ad incontri proibitivi soprattutto nel prossimo in cui Mennella e compagni saranno di scena in casa del fanalino di coda su Marionale Trieste si giocherà domenica pomeriggio alle 15.30 in quel di Brusciano la squadra di casa è ancora alla ricerca del primo punto in campionato Wai però a sottovalutare l'avversario in trasferta si sa è sempre una battaglia anche questa sera dopo questo telegiornale andrà in onda la trasmissione del venerdì a bordo campo l'anteprima si parlerà come sempre di eccellenze e promozione ma non solo spazio anche alla prima categoria e agli altri sport ci sarà un ampio approfondimento sulle gare di Coppa Italia e soprattutto sui prossimi impegni delle squadre isolane come sempre un parterre importante ospiti della trasmissione il capitano del Real Forio Francesco Chiaiese insieme al centrocampista della nuova ischia Dino Paradiso oltre a mister Giovanni Jovine e al giornalista Simone Vicidomini la trasmissione può essere seguita in diretta ma anche nelle successive repliche sul digitale terrestre oppure in streaming domani in piazzetta San Girolo Madischia la festa della zucca cura della sezione ischitana dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare il programma prevede alle 13 zeppole aperitivo e pizza e alle 18.30 cena con zucca e non solo alla festa della zucca parteciperanno anche alcuni rappresentanti dell'associazione Amici di Casal Maggiore che nello scorso mese di settembre hanno ospitato la delegazione ischitana e adesso ricambiano la visita sentiamo domani la festa della zucca organizzata dall'Unione Italiana lotta alle distrofie muscolari dell'isola d'Ischia e parteciperà anche l'associazione Amici di Casal Maggiore con Achille Scaravonati e Giuliano Lena ecco allora voi avete fatto anche una specie di scambio direi più che uno scambio è un gemellaggio una sorta di gemellaggio festa della zucca entrambi e ci siamo conosciuti presentati abbiamo fatto questo gemellaggio questa conoscenza importante allora parliamo brevemente della festa di domani e poi ci dite qualcosa della vostra associazione assolutamente allora festa di domani intanto grazie a voi di averci ospitato veniamo forse sull'isola più bella d'Italia quindi direi che siamo orgogliosi di essere venuti siamo un po' presuntosi perché oltre ad avere un'isola bella la campagna è famosa anche per i dolci buoni noi domani veniamo a presentare un dolce che abbiamo riscoperto nel nostro territorio si chiama il dolce credo del 1500 e quindi a sentire avere anche una risposta il tutto per presentare poi il nostro territorio che è tra l'olio e il po' lontanissimo da voi però dobbiamo comunque presentarlo mi auguro che il dolce riscuota un discreto successo ma è vicino comunque nel cuore nel senso dell'intento la mission della festa allora ci dica un po' qualcosa dell'associazione l'associazione è Casal Maggiore provincia di Cremona qui abbiamo parlato del poe dell'olio promoziona esattamente questo limbo di territorio che è un pochino sconosciuto anche se è in mezzo a Cremona Mantua e Parma quindi sono siti unesco importanti musica cultura e gastronomia e quindi proviamo a promozionare un territorio che secondo noi qualcosina merita non è bello come il vostro però se venite a fare un giro ci fa piacere la diocesi di Ischia domani inaugura il centro Papa Francesco nei locali del centro polifunzionale di via Morgione ad Ischia il centro pensato dal vescovo Lagnese nasce per essere un luogo di incontro e formazione per i giovani dell'isola e punto di convergenza di varie attività e servizi della diocesi collaborano vari uffici diocesani la pastorale giovanile sport pastorale sociale e caritas nella mattinata alle 10 e 30 ci sarà l'inaugurazione del centro con la presentazione alle scuole superiori dell'isola e alle autorità del territorio fra varie testimonianze ci sarà Soranna Nobili ballerina professionista della compagnia Oli Dance che interpreterà anche nel pomeriggio alle 18 e 30 nel secondo appuntamento inaugurativo aperto a tutta la cittadinanza un happy hour con apericena e tanta musica domani sera alle 21 sul palco del teatro polifunzionale di Ischia si entrerà sempre più nel vivo del premio Enaria con lo spettacolo intitolato Sud con la regia di Enzo Darco inscenato dalla terza compagnia in concorso la cantina delle arti di Sala Consilina nel weekend nei tratti di mare circostanti l'isola si svolgeranno due manifestazioni veliche organizzate dall'associazione sportiva dilettantistica centro sport campano domani sabato si svolgerà la regata velica coppa di Nestore trofeo città di casa Micciola con partenza prevista alle 10.55 nello specchio acqueo antistante del comune di Pozzuoli con successiva rotta nel canale di Procida e arriva alle 17 circa nello specchio acqueo a Ponente del porto di casa Micciola come già in occasione dei terremoti dell'Abruzzo e dell'Emilia il programma Nati per Leggere si è attivato con una campagna nazionale coordinata dall'AIB a favore delle popolazioni vittime del sisma del 24 agosto la campagna svilupperà diverse linee di azione tra cui la costituzione delle biblioteche in campo piccoli scaffali che saranno allestiti presso i nuclei abitativi provvisori la raccolta a Procida avrà luogo domani presso il Dolce Nido dalle 17 alle 19 e a Procida domani è convocata a cura del coordinatore Lucia Mameli la consulta delle associazioni sono invitati a partecipare i rappresentanti legali e i loro delegati la prima convocazione presso l'Atrio del Palazzo Comunale alle 17.30 la seconda alle 18 l'ordine del giorno elezione del segretario e programmazione delle attività per il 2017 è stato ritrovato a Santa Maria al Monte a Forio un cane razza setter bianco e nero maschio taglia media il cane al collare chiunque lo avesse perso può contattare il signor Francesco al numero 081997675 e chiudiamo con le previsioni meteo per la giornata di sabato tempo instabile soprattutto nella seconda parte della giornata quando arriverà aria più fresca che si sconterà con l'aria calda di origine africana sono previste quindi delle piogge temperature in diminuzione dal pomeriggio venti moderati da ovest e mare mosso grazie per averci seguito in questa edizione vi lascio quindi a Vincenzo Agnese e ai suoi ospiti e noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14 arrivederci a Vincenzo Agnese